Poi fuggi, ti vesti, mi confondi, non si dirmi quando torni e piangi, non rispondi, sparisci e ogni quattro mesi torni, sei pazza di me, come io non so di te, resisti, non ti stanchi, mi conservi sempre nei tuoi ricordi e poi, e poi brilli, non ti spendi, ci graffiamo e non forgo i disegni e sei pioggia, fredda, sei un contemporaneo di emozioni che poi quando passa, lampo, è passato, e son già solo, tornerai, tornerai, altro che se tornerai, ma stavolta non ti lascio, ti dico stretta sul mio petto, poi ti lascio, e poi ti grazio, e poi ti dico che ti amo e ti proteggo, e poi ti voglio, e poi ti prendo, e poi lo sento che impazzisci e se ti parlo è sottovoce, senza luce, perché solo io lo so quanto ti piace, lo dico, che mi ami, e questa volta no, non durerà solo fino a domani, resta più con me, è solo solitario, resisti, non ti stanchi, ti conservi sempre nei tuoi ricordi, e poi, e poi brilli, non ti spendi, ci graffiamo per non fargo i disegni, e sei pioggia, fredda, sei un contemporaneo di emozioni che poi quando passa, o l'acqua, tu non è passato così poco, e son già solo... a voi amici, chi ha, perché sono lì apposta? Ti ho fatto fuori nel tuo rito di grappa, resisti, non ti stanchi, mi conservi sempre nei tuoi ricordi, e poi, e poi brilli, non ti spegni, ci graffiamo per non far morire i segni e sei pioggia, fredda, sento un tempo dalle emozioni che poi quando passa, mollato, tu non è passato così poco e sono già solo. Grazie amici! Sono già solo un piettino, è sempre un piacere! Grazie a voi, grazie a voi davvero di cuore. Allora, ci avete richiesto una bacciatina? Siete sicuri? Io so tante cose, abbiamo un sacco di cose voglia di mettere in tolto, ragazzi. Però ci pensavo, ieri dicevo, ma se mi metto sulla bacciata, i miei amici hanno voglia di ballare, impazziscono. Cioè, come avere voglia di, capito, se vieni davanti non puoi. Scusami una domanda, ma loro non si possono alzare i piedi, però dove siete? No, 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 rispendo al proprio corretto. Bannate sulla sedia! Allora, secondo me, è meglio, ti scrivo, perché se fai la bacciata devi un pochettino muoverti, no? Sì! Allora, allora... Bannate in seguito, ragazzi! Sì, in seduto si mette lì sulla sedia. Facciamo insieme. Fai lo strusci, strusci con la sedia! Allora, ci mettiamo un nuovo palo di gruppo, aspetta lì. Cosa è il palo di gruppo? Aspetta, vedi lì, eh! Allora, vada a prenderla, perché ce l'abbiamo la bacciatina quella bella che dici, che poi arriva l'estate e dici, caspita, vorrei truccare, mia moglie, mia donna, poi magari te la da... Vabbè, comunque, parte questo. Bello! E vabbè, ma sono tutti grandi e vaccinati, ragazzi, eh! Ho l'aprito, ma... Eh! 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 Sì, 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 io la faccio partire. Facciamo tutto pare stasera. Facciamo anche i follici. Prendete i telefoni, ragazzi, perché non so quanto ti regalare. Ma forse... Prendete il gatto qua. Dai! 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 What? Dai! Dai! Voi se lo tu, voi se lo tu Però per te lì io entendo che non puoi e avecè non puoi Quando me lavoro, avecè desespero quando me lavoro E quando vengo me respeto me lavoro Il pensiero tiene il tempo, bebe l'alma e il cuento, faccio il sorrido, quando nel lavoro. Ti viene la scrisolina, eh? Ti viene la scrisolina che dici, fai mi alza la gaccia un poco tutto, arriva, arriva, arriva. Uh 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 e se la rima seria a tu Buonasera! A veces se fila, non c'è nessun momento. Quando me enamoro, a veces desespero. Quando me enamoro, e quando mi non me respiro, me enamoro. E se che tiene tempo, me duele la arma al cuento. Ah, sorrido, e quando me enamoro, e quando me non me respiro, me enamoro. E se che tiene tempo, me duele la arma al cuento. Sorrido, e quando me enamoro. Così, vai! Uuuu, 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 uuuu. Siete stati bravissimi! No, ma che se inizio adesso, se inizio adesso. Quindi se adesso ballare sulla sedia, a luglio, c'ho più il culo, c'ho più niente, c'è adesso. Allora la passione tra i tre mesi cosa serve? È come una piala fregge, capito? Ah, cari miei, eh, non lo so che non è fatto. Ti ripeto, è come aversi la mia e non poter fare niente, no? Ti girano un po' le bari, capito? Oppure è come avere un barattolo di non dare alla macchina e se la dieta. Ecco. Ora, e questa quarantena nessuno ha fatto, penso, la dieta. Io ho fatto tante di quelle focacce di voi, ragazzi, che non avete idea, si è diventato un buco io, Dio. Ma sai qual è bello? Io facevo, anche io mi sono messo a fare le pizze come sempre, no? E sì, io sono il furbo del mondo, mi hanno dato tutta la pizza, gli spagno, gli spagno, 150 euro di corrente mi sono arrivati. Che cazzo, il forno ho acceso tutto il giorno? Ho acceso il forno 13 euro al giorno, io sono furbo, ho spesso un po', ho avuto la sala a sabatineo che è vita vasta. Ma questo penso anche voi se avete usato il forno, sempre a 250 gradi a manetta, tutto il giorno, insomma. Ragazzi, se avete qualche richiesta, chiedetela pure. E' un po' da leggo e un po' da pomo. La rosa, vieni rosa. Chi? Guarda, sai che per me non l'aveva mai fatta lui? Te lo giuro, davvero. La prossima volta ci siamo iniziati, verso settembre e ottobre. La facciamo quella lì. Facciamo anche la tua, Terry. Allora, improvvisiamo ragazzi, se vuoi, mettiamo su un po' di musica latina anche un pochettino così, va beh? Così potete vedere il caffèino, vedere l'amaro, il dolce. Il leggo si mangia il dolce, che è ancora da subito. Il dolce lo mi mangio dal 97. Ma ragazzi, se lui si mette in testa di farla lì dalla fame, quindi i dolci davvero non ne mangia. Lui vorrei avere la sua forza di contatto. Io il paratore della novella è sempre in cucina. Sempre in cucina. L'importante è che le donne siano dolci, così mangio loro, capito? Vabbè, guarda che sarò una po'. Questa, ragazzi, la facciamo sempre. Ce la dedichiamo, augurandoci che possa veramente cambiare tutto il prima possibile e che possiamo tornare a fare la nostra vita. C'è una cosa, però dicono tanti e gli hanno detto, ma ne usciremo migliori e peggiori. Questo non lo so. Ognuno ha la propria idea. Però credo che questo periodo ci ha fatto capire sicuramente le cose che sembrano scontate, ma che in realtà scontate non sono. Questo sì, questo è molto leggeramente più il futuro. Perché è una cosa anche che sembrava banale a dicembre e a settembre scorso, ma marzo era incredibilmente un sogno. Se a settembre e ottobre scorso era normale andare a ballare, vedere gli amici, era una cosa banale. Ragazzi, a marzo è cambiato tutto. Non è più banale niente. È una cosa importantissima. Quindi con questa canzone, oltre a dedicarmi sempre e augurarvi un male di speranza, ma godiamoci la vita, ragazzi. Ogni secondo, perché qua cambia tutto in un momento all'altro. Quindi godiamocela e godiamocela. Cosa ne dite? Quasi quasi. Questa notte facciamo l'amore. Cioè, fatti. A mano a mano, ti accoggio più freddo, ti soffia sul viso e ti ruba il suo riso. Una bella stagione sul cuore e ti ruba l'amore. E a mano a mano, ci scioglie nel pianto, ma di dolce ricordo, spia di tutto e tutto. E quando vivevi con me in una stanza, non c'erano i soldi, ma tanta speranza. E a mano a mano, mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo, di quando la notte è di sempre più vera, e non come adesso, nei sabato sera, ma dammi la mano, intorno al vicino, può nascere un figliore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai celare, può crescere un figliore per questo mio amore. in una stanza, non c'erano i soldi, può crescere un figliore per questo mio amore. Sopra il tuo viso lo stesso sorriso che il tempo crudere insieme ti aveva rubato e torna a federe, l'amore è tornato ma dammi la mano e torna vicino. Può nascere un fiore nel nostro giardino e che neanche l'inverno potrà mai gelare o crescere un fiore a questo mio amore per te.